Pallone, Rémy, Van Persi, c'è un uomo a terra, potrebbe essere, e con questa rete si riportano in parità. Una cannonata, un missile che non ha lasciato scampo al portiere. Oh là là che gol, un gol meraviglioso, Pier. Gli hanno lasciato troppo spazio e lui ne ha approfittato. Aveva spazio davanti a sé, non ci ha pensato e forse con un giocatore così bisogna andare sempre molto attenti nella marcatura. Con questo replay possiamo apprezzare davvero il gesto tecnico da un'altra inquadratura.